Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo qui, intornati su Dragon Ball Legends per le pull da Black Goku Super Saiyan Rosé ed è inutile dirvi che puntiamo a lui Magari anche a Broly, dato che mi manca completamente Ho fatto anche Downodal, quindi non c'è nessuno spoiler nulla di nulla Resta solo che pullare, boys E iniziamo con la prima multi da 500 Super Saiyan Le prendiamo da Friso Vida l'extreme mi sa che non l'avevo quel personaggio Niente, è vuota, 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 vuota Buono, molto molto buono E ne hai portato a 6, vabbè dai Qualcosina abbiamo stellato Bene, seconda multi da Black Rosé Ok, qua c'era un bel po' di pozza Goku le prende da Vegeta Niente, abbiamo perso male Abbiamo perso proprio male Bene Seconda multi, boys Non è andata molto molto bene Andiamo con la terza Mamma mia raga Che shaft fino adesso Che shaft Zero SP Zero SP Speriamo di trovare qualcosa Oh Tanpai Qualcosa c'è Qualcosa c'è Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Da Vinci a Fuglio Diciamo che è un'animation Molto Nella no Prima SP Seconda SP No No LLF Mi raccomando No Mi raccomando No Tarla esportata a tre stelle Vabbè Vabbè Sinceramente Ok Adesso abbiamo la multi Con 4 extreme o più Pareggio Vegeta Sì c'è Vegeta Sì con l'animation Siamo molto Nella no Ma vabbè Se levo Il che è un personaggio Veramente Fantastico Però raga A me sembra Veramente poco Sinceramente Se levo Ma proprio poco Poco Però vabbè Wow 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 Abbiamo questa Lo step 5 E poi c'è la free Se non ricordo male 3 pods 3 pods No vabbè questa raga mi sa che è proprio un putt Questa mi sa che è proprio un putt Ma si della schippiamo questa raga Ancora ne vale la pena Abbiamo una free Molti free, dai è la free raga La free, almeno la free Almeno la free Spera Super free Goku vince contro free Broly broly Ci contavo broly Dai Super Saiyajin Ciri Facce trova sto black Faccelo trova sto black Raga ma cos'è successo raga Raga ma cos'è successo C'è 4 sp 4 sp Assurdo 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 veramente assurdo Ok abbiamo un'altra multi da 500 E dopo ci Ah no è vero La multi da 500 dopo non c'è più Quindi Possono farsi solo i ticket Bene raga Bene raga Sinceramente preferisco farmi I ticket in singola Piuttosto che in multi Perché ho sp garantita E ho più animation Quindi Sì alla fine cambia poco Però Non lo so Mi sento più di fare Ticket Così ve lo posso portare anche come contenuto a voi Prima multi Ticket SP Non molto buono questo Sì beh con l'anima è venuta Solo fake Poteva essere Bootings Non l'avevo Non l'avevo Quindi Lo possiamo anche Accettare Poi poi Allora Dai Broly Che proprio D'unosso Raga Questo no raga Questo Questo proprio No Questo proprio Raga In kokosu Ma se è 4 Full power Abbiamo l'ultimo Gli ultimi due ticket Raga Poi Speriamo Speriamo Eh una pod Questo qua viene in fake out Sicuro Mi sono fake out Questo sicuro Sarei contento anche di Broly Non è che Cioè Anche un Broly va bene Mamma mia Che schifo Lo schifo Dello schifo Cioè Lo schifo Più lo schifo Ultima SP Garantita E finiamo E finiamo con sto Videopull Però Cioè Non lo so Cielo Cielo Azzurro Che dire Che dire Niente ragazzi Questo era il videopull Vi invito a lasciare un like Se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale Attivare la campanella Delle notifiche Per non perdervi Nessun altro video E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima